buonasera a tutti ragazzi buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video pre partita per il napoli dopo la cinquina che abbiamo rifilato alla juventus in napoli e chiamato in causa per giocare gli ottavi di finale di coppa italia contro la cremonese che si giocherà domani alle 9 ma prima ovviamente di parlare del pre partita io vi invito come al solito di iscrivervi al canale pertanto ragazzi arrivi vi giuro vi prometto che quando arriviamo ai 20.000 non vi dico più sta frase quindi iscrivetevi perché se andiamo a vedere gli analytics le persone non sono iscritte che quella che guardano i miei video non sono iscritte pertanto iscrivetevi e non clic tac 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 e non clic come è sempre un clic attivare la campanellina sono due clic invece il fatto di condividere pertanto condividete questo video il mio canale addirittura se volete se avete quei cinque secondi per far per farmi conoscere no dite ai vostri cugini ai vostri parenti ai vostri conoscenti che c'è un fessacchiotto che porta video sul napoli sul calcio ok pertanto forse è ovviamente lasciando un commento inerente alle parole che dirò e alla partita di domani ovviamente aspettiamo come sempre il dio gennauro mastronunzio ovviamente che è immancabile con i suoi pronostici è un è un bijou come sopra è azzeccatissimo è azzeccatissimo detto questo in napoli deve continuare la scia di vittorie dopo la vittoria con la sampdoria la vittoria con la juve c'è bisogno della terza per continuare su questa scia avversario diverso un avversario che ha cambiato l'allenatore dopo che alvini ha perso 4 no 4 scusatemi 3 a 2 contro il monza ho visto la partita questa cremonese non è scarsissima però la cremonese che affronteremo domani non sarà una cremonese formato campionato perché io credo io credo che la cremonese essendo ultima in campionato vorrà dare il 100 per cento in campionato appunto e io credo ballardini il nuovo allenatore della cremonese faccia di tutto per restare in serie a mentre in in camp italia io credo che farà un ampio turnover un 11 turnover proprio un 11 cambio proprio a vieva parroco proprio non dico per scansarsi ma poco ci manca e quindi io non sono tranquillo perché la cremonese è quella che è perché la cremonese non credo emetterà i titolari non sono tranquillo e neanche non sono arrogante per questa cosa però io sono tranquillo perché spalletti tratta ogni partita come se fosse una finale sono tranquillo perché per la prima volta il napoli è una squadra completa completa a parte un ruolo tutto il resto è completa ok e spalletti per fortuna durante questa stagione ha utilizzato tutti ha utilizzato tutti quindi chi più chi meno ha minuti nelle gambe chi più chi meno si conosce ok quindi se la squadra titolare ho presunto tale è prima in campionato momentaneamente i secondi diciamo le seconde linee i panchinari quelli che dovrebbero giocare domani penso che possa andare tranquillamente in zona europa se non voglio esagerare ok però diciamo che questo metro il giudizio per niente di parte che lo conosci mi conoscete credo chi mi conosce sa che io sono pure molto autocritico verso il napoli non mi sono mai entusiasmato ma essere arrogante così però questo napoli mi dà questa sicurezza ok può finire rimane prendiamo quattro pulpette e capita però io domani voglio vincere come voglio vincere questa competizione ok io non sopporto tifosi soprattutto del milan e delle altre che dicono a coppitalia un trofeo del cazzo non lo voglio vincere non mi interessa proprio io penso per me stesso per me stesso e leggendo i commenti da parte di tifosi che fanno parte della mia tifoseria mi rende triste perché io credo penso che i giocatori vogliono vincere qualsiasi trofeo importante riconosciuto trofeo che entra in bacchè fisico bello ok lo voglia vincere ok quindi il napoli è in lotta su tre fronti campionato siamo primi a più nove quelli là che dicono eh avete vinto lo scudetto vincere lo scudetto sono i primi che non aspettono altro che caliamo io questa cosa l'ho sempre detta come l'ha detto spesso spalletti ok quindi in campionato per raggiungere la champions anche l'anno prossimo siamo in corso e secondo me l'abbiamo anche semi blindata vabbè che ci mancano altre partite in coppa italia molla incominciamo domani e siamo ancora in lotta per la champions league che ricomincerà a febbraio quindi in napoli ancora in lotta su tre fronti ok parliamo della coppa italia però lasciamo campionato e champions league parliamo di coppa italia la coppa italia è un trofeo appunto è un trofeo che devi vincere sono cinque partite in totale quindi se passi step dopo step dopo step ottavi quarti semifinale andata semifinale in ritorno e finale su cinque partite devi vincere sto cazzo di trofeo perché se vedi la tua parte del tabellone dopo la roma se la batti potresti affrontare la vincente di se non mi sbaglio fiorentino e torino quindi partite abbordabili partite dove in napoli è obbligato moralmente almeno di andare in finale è la cosa che mi rende tranquillo e che spalletti come ha detto di aurenso ha instaurato mentalità vincente ora mo lasciando stare che la coppa italia tutti la trattano così no lasciando stare che molto probabilmente come la cremonese anche in napoli metterà non dico le seconde linee ma quasi la cosa importante signori belli è questa cioè se le seconde linee giocano a cazzo di cane ok io mi incazzo perché dalle seconde linee una si aspetta tanto domani perché se uno che non gioca da tanto tempo poi domani fa cacare allora ragione spalletti a lasciarti in banchino ok che ogni partita è importante dal mio punto di vista parlando della formazione io la mia formazione dovrebbe essere potrebbe essere si riconporta berezischi osticard guaijesus olivera dumbele lobotka gaetano raspadori non metto demme metto lobotka il titolare inamovibile o gaetano a me non lo proviamo gaetano a me in coppa italia e perché gaetano non è che tanto è coppa italia però gaetano quando è entrato ha sempre fatto bene per esempio con la roma è entrato bene no in campionato e poi in attacco quara simeone e il mass perché ricordiamo lo zano è infortunato e poi lo zano è squalificato scusate mentre politano ha avuto un problema la caviglia quindi non lo rischierei e il mass come esterno destro lo metti tanto lo sa fare può giocare sia a sinistra e stiamo a posto quindi se vediamo quest'undici di titolare no che io ho messo in vista i domani l'unici che non hanno mai giocato sono sirico e berezischi perché berezischi è arrivato si può dire la scorsa settimana ok mentre gli altri hanno sempre avuto minutaggio chi 5 minuti chi 10 minuti chi una partita intera chi 45 minuti chi 60 quindi i minutaggi questi qua li hanno se devo fare una scommessa per me segna simeone scommessa facile però alla fine questo è curiosità della partita di domani arbitra per la prima volta il napoli un arbitro donna e questa qua si chiama maria sole maria sole penso ferrieri caputi un uomo più semplice non esiste vabbè ragazzi mi raccomando a te vincere la coppitalia voglio vincere magari fare i double magari finché se facciamo i double triplete no ma il double penso che sia alla nostra portata poi vabbè ogni partita non starà a sé mentalità giocatori bla 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 forma fisica infortunati quindi vediamo un po' fatemi sapere la vostra un saluto a tutti forzano sempre e ci vediamo domani con la live reaction perché stasera non faccio live ma sarò ospite da chi chiede a bar sempre da twitch un saluto a tutti forzano per sempre ciao